Scadrà il 4 novembre 2022 il termine per la presentazione delle domande per accedere al contributo a una tantum rivolta a soggetti e nuclei familiari residenti a San Cataldo, quale agevolazione per la tassa sui rifiuti per l'anno 2022. Tale contributo sarà concesso nei limiti del tributo dovuto dal richiedente fino ad un massimo del 50%, relativamente sempre a quello dovuto per il 2022, e fino a concorrenza delle risorse disponibili. Verrà segnato poi un punteggio in relazione alla situazione economica di chi presenta l'istanza. Infatti ad esempio verranno assegnati 11 punti per chi possiede un ISEE ordinario o corrente inferiore a 6.000 euro e poi ancora diversi punteggi in relazione anche alla composizione del nucleo familiare legata alla fascia di ISEE da 6.000 a 10.000 euro o da 10.000 a 17.000 euro. Più alto sarà il punteggio maggiore sarà il contributo riconosciuto, si precisa infatti. L'istanza potrà essere presentata tramite apposito modulo scaricabile dal sito del Comune San Cataldese, indirizzato al settore terzo politiche sociali e inviato tramite posta elettronica certificata oppure consegnato a mano al protocollo del lente nella sede comunale. Un provvedimento che rientra tra le misure straordinarie per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 rivolte alle utenze domestiche per l'anno 2022, che era stato annunciato qualche giorno fa anche dal sindaco di San Cataldo, Gioacchino Comparato e dall'assessore Gabriele Amico. Si tratta di un altro importante intervento per chi vive in una situazione di disagio, hanno affermato una misura che consideriamo essenziale vista la crisi energetica e i danni della pandemia. La nostra amministrazione ha chiare le difficoltà che stanno vivendo molti cittadini san cataldesi. Per questo in cima alle nostre priorità stiamo lavorando per creare opportunità di sostegno delle famiglie. Questo è il primo di una serie di provvedimenti per provare a calmierare l'attuale crisi hanno aggiunto. Nelle prossime settimane pubblicheremo anche un bando per venire incontro ai cittadini che hanno delle difficoltà nel pagamento delle utenze energetiche e idriche.